Da oggi la provincia regionale di Agrigento è governata solo dal suo presidente, ovvero Eugenio Dorsi. Infatti quest'ultimo ha azzerato la giunta partitica che lo ha collaborato nella sua azione amministrativa. Il presidente Dorsi dice che questa decisione non porta a nessuna crisi politica, ma che il suo gesto deve essere inteso come una possibilità che lo stesso presidente offre ai suoi assessori nel rappresentare in giunta tutte le espressioni territoriali della provincia. Eugenio Dorsi non ritiene giusto che la sua compagina assessoriale sia formata da più persone provenienti dalla stessa città e che quindi la nuova giunta dovrà essere composta da persone che soddisfano le esigenze di tutto l'Interlanda Grigentino. Secondo Dorsi alcuni degli attuali membri della giunta saranno riconfermati, ma la dichiarazione fatta dal presidente oggi che ha suscitato maggiore clamore è stato l'annuncio da parte dello stesso di voler ridurre il numero degli assessori dagli attuali 12 ad 8. Questo provvedimento, dice Dorsi, continua la mia azione di risparmio delle spese in favore delle casse dell'ente. Per quanto riguarda i tempi e i modi della formazione della nuova squadra che amministrerà la provincia di Agrigento, il presidente Dorsi anticipa che rispetterà gli accordi con i partiti che hanno contribuito alla sua elezione. Dorsi ha i leader provinciali della sua coalizione da un mese di tempo per fornirgli tre nominativi per ciascun partito. Poi sarà compito mio, dice il presidente della provincia, scegliere il nominativo e la relativa delega assessoriale. I soldi della collettività sono soldi di tutti. Se possiamo risparmiare quattro stipendi e possiamo fare, perché poi non è soltanto il discorso di risparmiare quattro stipendi, se possiamo fare lo stesso lavoro con otto assessori, anziché con dodici, conviene farlo con otto. Se invece avremo necessità di averne dodici per la distribuzione dei nostri lavori, ne faremo dodici. L'importante è che si agisca con trasparenza, con onestà e l'importante è che non si facciano assessori tanto per coprire il portrone o per riscaldare sedie. Alla provincia non c'è una crisi. Questo presidente, fatemelo dire con molta arroganza, è un presidente coraggioso che avrebbe potuto sedersi sugli allori di un'aggiunta molto vicina alle mie posizioni, di un'aggiunta molto leale nei miei confronti che non mi ha mai causato un problema. Oggi rimetto in discussione anche la mia presidenza, rimetto in discussione anche le mie cose, perché potevo vivere serenamente e tranquillamente portando avanti un certo tipo di discorso. Io ho grande collaborazione di questi assessori, ne avrò sicuramente con gli altri, dico pure che molti di questi saranno riconfermati, ma potevo starmene tranquillo, sereno, a casa, dormendo serenamente, leggendo mi topolino e vivendo sonni tranquilli e sereni senza che nessuno disturbasse la serenità di questa provincia. La verità è che dobbiamo disturbare gli agrigentini che debbano uscire, e credo che li abbiamo tutti, un po' di articolazioni per fare sì che la nostra terra possa autodeterminarsi nella legalità, nella crescita e nel miglioramento delle teste.